A Cosenza, nei Box Art, il finissage ha concluso la residenza di ottobre, caratterizzata ancora una volta dal tema dell'ospitalità intesa come esperienza di inclusione in una comunità, fertile terreno di scambio e luogo di conoscenza dove si sviluppano relazioni, nuovi incontri, amicizie e collaborazioni. Proprio in questa residenza il contatto con il territorio è stato particolarmente intenso grazie alla sinergia tra il Comune e la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone che ha consentito agli artisti residenti nei Box Art di realizzare un evento performativo ispirato alle opere custodite nel Museo di Palazzo Arnone. Questa residenza sancisce l'utilità insomma di questo progetto di residenze perché da un lato siamo stati riconosciuti dal FAI che ha scelto il Box Art e il Box Museum come giornata FAI del 13 ottobre. Poi siamo stati chiamati anche dalla Galleria Nazionale di Palazzo Arnone per fare delle performance ispirate alle opere d'arte contenute nel Palazzo Arnone. Quindi il riconoscimento continua pian piano a aumentare, questo dimostra la volatilità del progetto, degli artisti che vengono e che sono poi artisti che lavorano in diverse direzioni utilizzando sia i mezzi tradizionali come la pittura, il disegno, la scultura che quelli più moderni come la fotografia, il video e anche la performance e le relazioni che noi creiamo col territorio perché poi tutte le opere che noi vediamo qui sono opere che nascono in relazione col territorio.